Non ci ferma nessuno, non ci ferma nessuno, il podcast, il diario di bordo del tour motivazionale universitario di Luca Beta, puntata numero 52. Buon inizio settimana, siamo alla vigilia della nostra settima tappa, Università Ca' Fosca di Venezia, stiamo arrivando, e domani insieme a noi e a voi grandi sorprese, primo fra tutti l'ospite, Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista e divulgatore scientifico, tra l'altro è stato anche docente universitario proprio in quest'ateneo. Con noi ci sarà anche la radio ufficiale del tour R101, che amplifica anche sulle proprie frequenze i valori di questa campagna sociale. Nell'ultima tappa poi ha affidato a Silvia Notar Giacomo, speaker apprezzatissima, il ruolo di ambassador. Ai ragazzi di Cagliari ha fatto davvero bene sentir parlare di coraggio di essere se stessi con tutte le caratteristiche e le fragilità che possono caratterizzarci. Siate voi stessi, non fa niente se sbagliate, se cadete a terra, non è un fallimento, è semplicemente un ostacolo che ci ha messo un po' di bastoni tra le ruote, però se siamo caduti ci è consentito anche rialzarci. Dipende da noi, non abbiate neanche paura di confrontarvi con le persone delle quali vi fidate, perché loro non vi giudicano, vi vogliono bene e non abbiate paura di farvi vedere fragili, perché non c'è bisogno di essere necessariamente dei supereroi, non siamo dei supereroi, siamo persone normali, comuni, che possono sbagliare. Insomma, i supereroi sono nei fumetti, noi siamo umani e può capitare anche di inciampare, ma abbiamo imparato a rialzarci, a trarre insegnamento da quella caduta e a urlare non ci ferma nessuno davanti a tutto quello che vuole privarci della felicità di realizzare il nostro sogno. Allora, a domani per un nuovo podcast! Grazie a tutti!